La benacquista assicurazioni Latina Basket ritrova la vittoria contro la Givova Scafati per 74-61. I Pontini, informazione rimaneggiata vista l'assenza per infortunio di Roberto Rullo e la forma non ottimale di Capitano Lietti, reduce da una settimana di fabbre alta, vince l'importantissimo scontro. Alla presenza del sindaco Damiano Coletta e del prefetto di Latina Pierluigi Faloni, Nerazzurri giocano una partita difficile e delicata, soffrendo soprattutto nei primi due quarti di gara. Una prestazione rodevole dal punto di vista dell'impegno e del sacrificio da parte di tutti i ragazzi scesi in campo che hanno lottato con grinta ed intensità per guadagnare due punti preziosi. Migliore realizzatore del match, Ardelegge, ha messo a referto 26 punti e collezionato l'ennesima doppia-doppia agguantando anche 13 rimbalzi, imitato da Poletti che di punti ne ha fermati 12, oltre ad aver catturato 10 rimbalzi. Buonissima anche la prestazione di The Shields che ha realizzato 18 punti e distribuito 4 assist ai suoi compagni. Il pontino pastore di assist ne ha serviti ben 6, oltre ad aver siglato 7 punti personali. La vera chiave di svolta della gara è stata senza dubbio la brillante chiave corale del gruppo. Il prossimo appuntamento con i Nerazzurri è in programma domenica 29 gennaio alle 18, nuovamente al Palabianchini, dove arriverà la Fortiduto a Grigento.